Tutto il sapere di generazioni di agricoltori si condensa negli straordinari prodotti della terra. Ci troviamo a Sambuca di Sicilia, ai piedi del Monte Genuardo. Oggi vi parlerò un po' del primo sale che noi produciamo nella nostra azienda. Il primo sale parte dal primo sale classico o quello più farcito, con pepe nero, con il peperoncino, con il pistacchio, con le noci, con la rucola, tutto ciò che la nostra clientela ci richiede. Viene consumato in diverse maniere. Può essere consumato semplicemente assaggiandolo così, in maniera semplice, con il miele, con un po' d'olio. Può essere messo nella pizza, nella pasta, nella parmigiana. Insomma, come più si desidera assaggiarlo. Grazie. Grazie a tutti.